Buonasera a tutti i presenti, grazie di essere venuti, grazie di essere qui con noi in occasione dell'apertura del vernissage della nuova mostra di pittura di Giorgio Chierquier con il titolo Viste, impreviste e spero che per voi sia un bell'imprevisto di scoprire che il maestro Chierquier è anche maestro di musica e ci farà l'onore e il piacere di esibirsi con il suo amatissimo clarinetto in cui tra l'altro è anche professore diplomato, quindi se volete un applauso di incoraggiamento e buon ascolto Buonasera a tutti i presenti 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.